VIVIAMO DEI TEMPI STRANI Viviamo dei tempi strani che ci pongono molte sfide. Per alcune persone tempi spaventosi. Nasce spontanea la domanda quale forza e quali persone stanno dietro a questa serie di eventi che stanno trasformando il mondo nella visione orwelliana. Uno dei modi più grandi in cui gli illuminati controllano le società mondiale è tramite la finanza, quello che chiamiamo soldi. Ma che cosa sono i soldi? Come può un gruppo di pochi, in confronto alla popolazione umana, controllare tutto il resto della gente? Questa gente continua a seguire come pecore e la vasta maggioranza non ha nessun interesse a sapere queste cose. Si preoccupano del prezzo della birra o di quello che accade nell'ultima telenovela invece di pensare al fatto che la propria libertà e quella dei propri figli si stanno distruggendo. Ci sono un paio di tecniche che le persone dovrebbero conoscere perché una volta che sappiamo come funzionano il mondo che ci viene venduto dai media non sarà mai più lo stesso. Scriviti e revisione a cura di QTSS